Per me è una città importante, fondamentale per la mia professione, per l'ambiente, per la cultura che mi ha dato. Calcisticamente purtroppo sono arrivato ormai che ero a fine carriera, però ho dato il mio apporto e abbiamo vinto il campionato. E poi è successo, Parma da quell'anno lì probabilmente è partito per poter arrivare in Serie A, categoria che merita perché c'è entusiasmo, c'è intelligenza, c'è ordine, c'è disciplina, c'è prospettive per il futuro. Quindi Parma rimane per me un punto di riferimento nella mia vita fondamentale. La parata che ha fatto dopo due minuti, se l'avesse fatta Buffon la proietterebbero per una settimana perché ha fatto un colpo di reni incredibile. Io ancora sono rimasto portiere, sì faccio il merito ma fondamentalmente sono rimasto portiere. Il portiere ha questi istinti, questi riflessi naturali che non vengono da allenamenti, da esibizionismi eccetera. Lo faccio col mio istinto da portiere che ho da quanti anni? 50? Lì trovo voi. Grazie mille.